musica 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 bella a tutti ragazzi siamo qui al secondo episodio di Terraria e come c'è sempre amici super allora ragazzi la telecamera spende sono andato poco avanti e ho costruito una piccola casa e niente oggi non sarà un bel evisio come quello scorso sarà tutto velocizzato e andremo a cercare di minerare tutto musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.